Abbiamo due aspetti per la situazione qui. Il primo è la domanda di cui si una persona sarà in una forma illegale, non conforme con la legge. Abbiamo parte di asilo, quindi la legge del nabo è l'autorità, quindi la legge del nabo è l'autorità. La legge del nabo è l'autorità, quindi la legge del nabo è l'autorità. Ma nel momento in cui è successo, la legge del nabo è l'autorità in esperienza di sua deportazione, mirando la legge del nabo è l'autorità, mirando, in primo lugar, la legge del nabo è l'autorità in una forma illegale, e, conseguentemente, la legge del nabo è l'autorità che non è l'autorità. la legge del nabo è l'autorità che non è l'autorità che non è l'autorità in esperienza di un contesto che è l'autorità, e, conseguentemente, la legge del nabo è l'autorità in esperienza di sua deportazione. Quindi, se hai un rato, mi chiedo a parlare un rato, per lo che è parte qui, non obstante se fuori il nostro ministri, non si intende che ho avuto a entregare la lancia di ricerca, e, tra le altre, controlli che è parte qui, la lancia di ricerca è l'autorità in esperienza, e, se risulta che c'è qualcosa che è l'autorità, non c'è una conseguenza, ma non è l'autorità. E, se hai un rato, per parte, mi chiedo a elaborare un rato, di fare un video di circolazione, per lo che c'è un'aggressione contro la mamma delle persone che avevano a tenere in un'autorità, mi servizia che avevano in un'autorità in un'autorità in un'autorità, mi chiedo che ho avuto a entregare, per lo che è parte che stiamo nella lancia di ricerca, ma è parte, lo canale, sul cammino, ovviamente, è parte strafrechtale, è parte penal, ma è parte disciplinare, in Middles c'è un rapport, un rapport, un rapport, che è una procedura normale, ora, qualche amtenare, qualche trabajador usa violenza, e c'è un'investigazione interna, disciplinare, che avevano iniziato a capire, e non ci sono in esperanza di un rapport, per fare tutti i dettagli, e poi, un'autorità, e poi, un'autorità, per fare un'autorità, per fare un'autorità, che è un'autorità, per fare un'autorità, che è una persona, che è una persona, che è tommo, lo messerà, il nostro Paese. Bisogna questo, c'è una carta, qua da un'autorità, che è un'autorità, non c'è inespera, di contesto, di un'autorità, se non ricevono contesto, e di un'autorità, ma comprende che il direttore di guerra, lo manda rapalare, così è una persona, volontariamente per abbandonare la nostra isola. Ovviamente tutta tutta la maniera che la legge brinca per aprire le decisioni, perché è una disposizione di tutta la città, non obstante, in quale caso che noi lo vogliamo, si non è di accordo con qualche decisione, si non è di accordo con qualche optredo, in caso di un amtenare, di un'organizzazione, sempre per accedere in un'instanza adecuata che lo attende che saque. La parola più relevante è la temática di lei. La lei ti explica che ora è una persona può deportare, che ora non. Mi pensavo, honestamente, John, mi rai un elogio, un compliment, che non mi dice, che non mi dice, chi mi dice, chi mi dice, chi mi dice, chi mi dice, perché mi dice, e se non mi dice, non mi dice, non mi dice, non mi dice. Pensei, anche, i nostri punti di salita, i nostri ministri, di spettizioni, non mi dice, non, di spettizioni, non, di spettizioni, di questo. E per se portare il commento che il ministro non si chiama, il ministro non si chiama a John. Per se mi chiede, è se lo che succedeva demasiado nel passato, da un altro ministro che non si chiama. Quindi a me, lo che ti dirige, è la lei. Ora la lei dice che il popor a guardo teni, per sopra la renda a rubo in una maniera illegale, io sta trajando qual non mag, ora la nostra costa tommo, ponevo in boaring, un juez comissario pensa che è se sta corretto, è la ditta che è giusto, io sta chiedendo ora in spera di deportazione. Quindi è vero, se tu sei se sta corretto, il ministro non si chiama a prendere un'excepzione, sopra lo qual ti dirige a me, è la lei. E lei ti hope è chiaro che c'è qualcosa che c'è qualcosa che c'è qualcosa che c'è qualcosa che non c'è.